Ieri, dall'elettro auto, le luci di posizione, stavano i stop che poi non lo so, ma al massimo te lo faccio sapere pure per quello, aspetta un'ora, aspetta un'ora, ehi fammi un favore, vai in macchina, vai a controllare le frecce, oh, monoman, scusa, ma non usiamo le pistole come altre volte, come le pistole? scusa, io un, vabbè, 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 vabbè